questa mattina le batterie parto però da una domanda che sembra scontata ma nel caso tu non lo è cioè come stai? meglio meglio grazie per ora insomma per fortuna non c'è niente di rotto è solamente un po' stirato il ginocchio sicché per qualche giorno bisogna stia a piedi ecco diciamo sono un grande spavente sì sì più che altro sì più che altro è il dolore iniziale poi diciamo c'ho la valla a correre quindi sono venuto volentieri vengo volentieri avrei montato volentieri però è meglio se per qualche giorno sto un attimo a riposo ecco salterà ovviamente quindi le batterie non potrei montare questo lo sapevamo parloci un po' della cavalla è bellina giustamente anche lei ha da fare la sua esperienza perché è la seconda volta che viene in piazza ha cinque anni e quindi c'ha da fare esperienza però sono contento perché ci ho lavorato tanto l'ho domata io e alla fine era una cavalla di cinque anni e subito il primo anno ha la possibilità di fare la batteria della tratta e quindi sono felice ecco diciamo un tuo investimento dai esatto sia stato un mio investimento lo sono portato avanti e insomma ha reso su tutti per ora qual è l'obiettivo è essere pronto per agosto certo tra qualche domani domani all'altro già a casa cominciò a rimettermi a cavallo e via però e purtroppo ora veni qui fa tre giri magari come li voglio fare se il rischio di far danno ulteriore è peggio farò così